Abbiamo vissuto un anno denso prima abbiamo avuto le tende per l'housing e abbiamo investito tanto io ricordo questo bando del ministero che noi abbiamo salutato con molto favore un miliardo e 200 milioni ma io voglio anche ricordare che quella protesta è servita proprio a innestare un ragionamento e anche a rendere il problema dell'housing universitario un problema centrale e quindi anche a Milano abbiamo questo tavolo col sindaco noi tutti atenei proprio per parlare di questo e poi la Magna il sindaco e anche il governatore Fontana parleranno certamente anche di questo e oltre questo abbiamo avuto ovviamente il tema poi della guerra in Medio Oriente quindi di altri tipi di tende ma anche quello voi sapete qual è la mia posizione io credo che quando ci sia il rispetto per le cose le persone noi dobbiamo lasciare anche la libertà ai nostri ragazzi di dire la loro e quindi di ascoltarli perché questo è veramente molto importante